ma ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video oggi siamo qui per la prima volta nelle evocazioni di Genshin Impact siamo qui per andare ad aprire il banner e provare a pullare qualcosa è un video questo molto chill registrato tra l'altro in live che se non seguite le live mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanina per ricevere la notifica quando andrò in live per ogni video che posterò quindi mi raccomando lasciate mi piace se volete godetevi il video fatevi due risate perché fa veramente non ve lo so neanche a commentare ve lo dovete vedere voi e io dal vestito baggato di Ningguang no non si può vedere dal vestito baggato di Ningguang è tutto vi auguro buona visione no non trovo niente non trovo niente te lo dico io neanche un 5 stelle sicuro ne sono certo eh lo so non è dalla mia parte inizio che faccio sul banner standard ci faccio una multi e poi quattro singole o vado solo singole quindi vado di singole prima singola niente si 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 ho trovato un arco un arco un arco tre stelle però vedi stavo dicendo non ho gli archi non ho gli archi vado un'altra neanche beh almeno un quattro stelle dai uno non chiedo tanto mazzi è tanto il ritardo ne ho aperte tre neanche un quattro stelle adesso ho avuto un'altra singola e poi dieci e poi una multipla beh niente niente neanche qua adesso faccio la multipla vabbè si quello è assicurato il quattro stelle è la multipla spero almeno un personaggio allora un arco un arco quattro stelle sacrifica il bo sacrifica il bo arco quattro stelle ok ok dai un altro arco quattro stelle ma due archi quattro stelle si rust rust ho capito ma io dico non c'ho gli archi allora adesso dico adesso dico non c'ho i personaggi non c'ho i personaggi un altro vabbè ma solo archi in questa si no non puoi capire quanti archi solo archi dai uno un personaggio uno un personaggio dai niente sono finiti vabbè però due archi quattro stelle solo archi solo archi cioè su cin su dieci ho trovato quattro cinque archi vabbè però dai dai due archi quattro stelle dai sì è vero è vero è vero sacrifico al boco è figo dovrebbe essere quello after mi schiava qua parto di di singole prima prima singola ok niente io non chiedo tanto chiedo ufficio vabbè nella multi nella multi è assicura no un altro arco no basta adesso ce l'ho l'arco adesso ce l'ho l'arco basta un altro ok niente emerald orb ma emerald orb sarebbe tipo tipo il libro cioè quello che si usa per ok un altro ok niente niente neanche qua e siamo a tre ok ok niente neanche qua siamo a quattro vado con la quinta ok neanche un quattro stelle incredibile un altro arco dai dai così mi potenzio quelli che ho niente vado con una eh infatti te lo stavo dicendo vado con una multi vado ok quattro stelle quattro stelle ok no dai favonius sword si lo so si si è la spada è la spada è la spada però però dai volevo almeno un personaggio non dico no dai su tre quattro stelle dai vabbè scandaloso adesso devo andare per forza di di singole davano tutte di singole ormai niente neanche qua oh quattro stelle oh bennet 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 si 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 bennet bennet oh finalmente ok 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 dai dai uno l'ho trovato posso ritenere soddisfatto vado eh un altro beh io faccio la finta quella come ho fatto prima no non funziona non funziona più eh lo so che ti dispiace però pure a me dispiace tanto dai vai un altro eh però vabbè beh ammazza visto August come troppavo qua bello 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 questa tre stelle mi serviva guarda la terza troppi ok la terza dai un altro e fino a qua e fino a qua ci siamo August perché la seconda ancora non ho fatto niente non ho droppato questa è la terza mamma mia peccato perché su altri giochi ero più fortunato niente neanche la terza niente neanche questa ma non ti devi scusare purtroppo cioè io non ci credo no quante ne ho aperte dopo dopo me ne vado a ricontare dopo me ne vado a ricontare eccolo quattro stelle eccolo non guardo non guardo dimmi dimmi che cosa è della live non guardo no dai non è possi non è possi no vabbè non ci credo no 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 non potevo da 10 non la potevo fa da 10 August no il fonius un altro no dannaggia ma dai ma che palle ma che sì ma armi uguali armi uguali non è possibile c'è ma siamo serio dai guarda guarda eh August guardala ce l'ho due ce l'ho due lo trovate due c'è incredibile ma che Bennett adesso diventerà tipo fortissimo perché c'è l'arma dai vabbè aspetta un momento un momento questa dovrebbe essere l'ultimo poi mi vado a spendere quell'altro sul banner base perché ormai le spendo tutte mi frega niente vale ok niente adesso me ne prendo infatti ci avevo pensato flipper comunque grazie allora andiamo nello shop altre quattro dal banner base altre quattro dal banner base mi raccomando eccola guarda questo è un quattro selle bello 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 complimenti bello eccolo è quattro selle è lui è lui oh vabbè dai ninguan 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 dai ninguan dai dai non si butta non si butta non si butta non si butta devo dire dai guarda altri due niente l'ultimo l'ultimo potrebbe essere ah no poi mi parecce non 5 è 4 stelle 5 stelle 4 stelle vabbè dai lo posso almeno lo posso mettere su ninguan sacrifical fragments libro ok ok dai ho trovato bennett e l'arma per bennett poi poi ninguan e l'arma per ninguan e poi l'arco che mi serviva beh dai dai tutto sommato dai dai banner base ultima questa è veramente l'ultima basta ok si era capito che era l'ultima l'ultima di av Grazie a tutti.